L'arco d'argento si specchia il firmamento Dorme Firenze sotto il raggio della luna Là dietro ad un balcone sveglia una Madonna Bruna Hanno voluto fare un omaggio a Firenze e hanno ricevuto dal sindaco le chiavi della città Gianni Morandi e Claudio Baglioni saranno al Mandela Forum il 27, 28 e 29 febbraio Per tre date speciali del loro ormai famoso concerto Capitani Coraggiosi Visto dal vivo solo al Foro Italico di Roma e trasmesso anche da Rai 1 Una carrellata dei maggiori successi italiani, soprattutto i loro degli ultimi 50 anni Le motivazioni per questo importante riconoscimento le ha spiegate il sindaco Ho pensato a questi due grandi artisti e al fatto che loro sono davvero il simbolo del bel canto italiano nel mondo, non solo in Italia Sinceramente grati e emozionati i due artisti che oltre all'omaggio Canoro non hanno risparmiato le battute Siccome il sindaco è molto giovane, è più giovane di Morandi e anche di me Grazie per queste chiavi vorrà dire che quando tornerà più tardi la sera troverà noi che gli apriremo la città La scorsa settimana ho preso la multa, perché? Sono andato a Scandiccia a trovare mia zia e all'angolo proprio lì sotto casa di mia zia c'era un passaggio carraio che io non ho visto, sono rimbambito Mettetegli dopo il passo carrabile, se no Abbiamo pagato, regolarmi c'ho la fattura, tutto